Mercati, nuovo record per il prezzo della bresaola, ancora segno meno invece per la mortadella, affonda l'indice dei formaggi molli. Interni, resta ancora oscuro il concetto di coesione sociale, chiunque ne avesse intuizione è pregato di comunicarcelo. Non gli ho idea, non gli ho idea, non gli ho idea. Non hai sentito? Diciamo, no, lasagna. Qualcosa che c'entri con le macchine, piatto indonesiano, permette di incollare una struttura in plastica con un sederone grosso, un collungo e gli occhi in fuori. È tenerissimo! 4612, bagù, 2 miliardi 457 mila 928, pasta sfoglia, 5, spinaci, sale. Farina, 14, la temperanza. Abitare la comunità, perché la coesione bisogna viverla.